Ciao ragazzi, siamo in live, mettiamo che entra la gente, ok, in attesa di tubo master 10 gennaio 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 18.31 19.31 19.31 19.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 20.31 bello bello raga ok quando ci abbiamo il baule della corona iniziamo a compartire due v2 così tanto per riscaldarci un po' tanto raga a voglia di di tempo che abbiamo ok ok allora facciamo una mossa che a me piace sempre no no non ci ho capito più niente alla fine comunque si è buggato tipo o il wifi o qualcos'altro beh io qua direi di andare a tre corone comunque raga se tutto va bene il cellulare mio riesce la live dura fino alle 8 dura fino alle 8 raga sempre se non muore prima il mio cellulare faccio così che palle raga allora facciamo così facciamo così facciamo così dunque qua ce ne andiamo a tre corone noi ce ne andiamo scherzavo qua ma appena ci andiamo a una corona le tre corone ce le fanno loro raga che delusione che delusione che delusione che delusione che delusione scrivete nei commenti scrivete nei commenti scrivete nei commenti oh doveva dare un colpo mannaia vai così vai così vai così vai così allora qua facciamo così ok che i miei barbari al 13 raga non si infamano facciamo zappiamo perché se no la torre la prendiamo domani ok g per noi ok se tutto va bene prendiamo anche la torre di sinistra se tutto va bene no perché buttato no no ma perché buttato il pecca non ce n'era bisogno ho capito che c'era la scintilla però non so qualcuno in chat mi ha scritto che ero scarso non so forse hai cambiato idea tre corone per noi mi sarebbe troppo epico trovare qualche baulano bello 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 ok andiamo con il moschettiere per richiedere no il moderatore già c'è porcher modez non so come si dica comunque il moderatore già c'è fra poco entra verso le 6 entra comunque già il moderatore ce l'ho una persona una sola già ho il mio moderatore già il moderatore c'è ok anzi fra poco entra perché io senza il mio moderatore non le faccio mai le live per evitare questo se no poi tutti dicono sei senza moderatore dunque grazie a tutti per essere entrati in live condividete la live e mettete un pollicione in su alla live un pollicione in su dai vai che bello è entrato in torre cioè era entrato in torre era dai non ti applicare a quello scheletrino dai girati 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 vai così raga questi facciamo il bucio no perché è zappato adesso devi zappare dopo che doppia veleno complimenti per la scelta dai entri in torre entri in torre ti prego così si fa guarda boom di qua ve lo dico io come vincono ecco come vincono di veleno sti infani qua dai 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 ma che bella partita avete vinto di veleno vergognatevi ah raga bella programmer grazie per essere live grazie a tutti per essere live entrate in live condividete con i vostri amici oggi se facciamo una bella live che dura verso le sette e mezza super giù così finchè il mio cellulare regge ovviamente se non mi abbandona vai che uno di loro ha spregateli siri raga allora io faccio così no dai la lapide avete messo no vabbè perché incontro tutti gli stessi tec aiuto aiuto minchia piccola mettete cos'è roba l'ha dai 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 strega dai strega allora raga per me un segno me ne sta facendo perdere tutto adesso vi immaginate trovare una leggendaria nel baule sarebbe troppo bello ehm programmer con chi parli a chi è riferito perché non ho capito non ho capito a chi è riferito il commento non ho capito a chi è riferito il commento aspetta no programmer non ho capito a chi è riferito la cosa non ho capito anche perché non capisco il napoletano abbiamo perso abbiamo perso si a te perché mi chiami programmer io mi chiamo programma a proga a ok ok perdone scusa moi scusa moi non ho capito a chi è riferito Grazie. Tranquillo, Rosario. Tranquillo, tranquillo. Comunque, piano... Nessuno. Proga, nessuno. Puoi anche uscire se vuoi dalla live. Non si spamma qua. Aspettate un minuto. Scrivo al mio moderatore. Ok. Facciamo così. Ok. Ma quanti ce ne stanno mettendo? Porca miseria. Che partito di merda. Poi farò anche una live dove aprirò il baule componibile. costruibile o sbagliato. Dove è la macchina? Questa è la macchina. 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 Chiudiamo la porta. Questa è la macchina. Teniamo così, teniamo così. Tengiamoci i barbari pronti. Zappiamo. Tappiamo Grazie a tutti per essere in live Spolliciate con i like E scrivetevi se ancora non l'avete fatto Grazie a tutti Vai 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 Ti prego fammi Fammi trovare una leggendaria nel baule Che stupidi raga Che stupidi sti giocatori qua Cioè sinceramente hanno buttato Hanno buttato Tutta l'elisir Per buttarmi manco meno di un barbaro Si può dire Vabbè Intanto noi qua andiamo a zappare Subito subito Intanto la torre l'abbiamo fatta L'ha anche Mamma raga Dove dovete mettere truppe per prima Non si sa Tranquillo rosario Ora la gente entra Come ho fatto l'annuncio Tranquì tranquì Ho scritto al mio moderatore Perfetto Tranquillo Sanno la gente entra Vado a vedere intanto con i like Come siamo messi Ok vediamo con i like come siamo messi Ok grazie per i due like Perfetto Continuiamo Continuiamo Per chi si fosse iscritto da poco Mi raccomando Spalgete la voce Ogni giorno una live Ogni giorno live raga Anziché video Mi piacciono di più le live Eh dai gran cavaliere Congelo Ma hai fatto la Ok Bella giocata Minchia raga Bella giocata Bella giocata Bella giocata Ciao vai 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 ok io faccio così a predict perché dai dai domatore dai domatore dai domatore dai domatore un hit perfetto abbiamo vinto raga abbiamo vinto raga se metti la congelo mi fai un favore mazza non ce l'ho questo è un problema un problema un problema un problema no scherzavo non è un problema per niente non è affatto un problema dai dai però entra in torre dai lo metti sempre là adesso lo metti qua dai abbiamo vinto antonio passiatone in che cranno stai adesso te lo faccio vedere questo qua questo ma siamo pieni ok entrate in live mi raccomando spargete voce con i vostri amici voglio entrate in molti raga dai 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 che ci divertiamo oggi mi sento una leggendaria non so perché ma mi sento odore di leggendaria mi sento odore di leggendaria raga ho sta sensazione raga leggendaria nel baule della corona secondo me si antonio faccio amichevole se vuoi fare l'amichevole me la mandi su facebook che io te l'accetto dai c'è mi hanno ma come hanno fatto a distruggere tutta sta roba ok se io gli metto i barbari non mi conviene quindi mi chiamo aspetta ora te lo faccio vedere adesso te lo faccio vedere tranquillo one minute one minute finisco la partita e te lo mostro un minuto un minuto un minuto te lo dico subito come mi chiamo dai no raga ma perché mi si bugga la connessione ok l'avversario ho capito che non mi vuole aiutare quindi così mi chiamo raga questo è il mio profilo no non puoi entrare nel clan siamo pieni siamo 50 su 50 mi devi mandare la richiesta questo così mi chiamo mark bianchi questo no mi devi siamo pieni nel clan non puoi entrare siamo 50 su 50 siamo pieni nel clan per questo benvenuti a tutti i live dai che oggi si trova una leggendaria raga dai raga che oggi si trova una leggendaria giver noi cominci allora raga io non lo so allora secondo voi ditemi che cosa troverò un'epica una leggendaria vabbè le comuni sicuro però secondo voi che cosa trovo allora raga vediamo se trovo una leggendaria un mio amico ieri l'ha trovata 668 di oro 2 gemme 3 arcieri ok quindi l'aria ospè raga ospè raga ma se già si trovano le rare poi si trovano le comuni poi si trova l'epica le comuni raga l'epica no nemmeno l'epica mi ha dato vaffangulo nemmeno l'epica aspera raga gioco nell'altro profilo ne ho più di uno se no qua ci annoiamo sempre in questo giochiamo giochiamo un po' in questo un po' ho tre profili quindi questo dovrebbe esserci il baule gigante si infatti mai trovare una leggendaria qua mai a parte la cimitero oddio i moschiettieri mi servono no ma chi 60 gemme e a me quanto manca per salire di livello 8 io quasi quasi mi vado a potenziare le cose vediamo se riesco a salire di livello 8 vediamo raga se ci riusciamo mi manca poco per salire di livello raga andiamo a farci battaglie normali che volevo fare le sfide anche qua le sfide quelle che hanno messo delle lisire solo che non ho devo arrivare a livello 8 intanto qua ce ne abbiamo un altro baule della corona quindi le speranze di trovare una leggendaria possono aumentare allora noi facciamo così e facciamo anche così tanto che ci frega ma che ci importa l'importante è che noi troviamo la leggendaria ma che ci frega ma che ci importa c'è l'unica leggendaria che ho qua è la cimitero e basta uuuuuh ha specchiato secondo me ha fatto una giocata diciamo un po' un po' azzardata però vabbè io non avevo altro modo se non mi difendo così non ho come difendermi raga facciamo così perfetto ok ciao neria migliornato no ciao ma come fanno oh tutti raga tutti sto pecca sta diventando una cosa assurda no davvero vi dico mi fa esasperare sto pecca ecco bravo metti la palchiglia davanti perché sai che ti faccio il bucio del culo inti raga che giocata che ho fatto raga che giocata che ho fatto che giocata che ho fatto che giocata che ho fatto cioè avete presente quelle giocate proprio belle che questa è una giocata bella raga dai con la cimitero dai vai così raga mamma mia che goduria certo neria che ti saluto dimmi il tuo nome dimmi il tuo nome che ti saluto dimmi come ti chiami oh vai oh yeah ragazzi siamo saliti di arena dimmi come ti chiami ti saluto senza problemi non so se sia il tuo nome Neria non penso che c'è frega ma che c'è in porta vai 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 boom è così perfetto no spam se no vi banno ah grazie finalmente è arrivato just il mio moderatore non puoi capire che se leggevi la chat di prima che è successo comunque Neria dimmi come ti chiami che ti saluto grazie just se ti vai a leggere tutta la chat di prima ok minchia raga qua faccio così a me sinceramente l'importante è che non mi è entrato il principe il resto non mi conta molto boom ma vai così potevi prendere gli scheletrini nooo sbagliato questi ora mi fanno la torre però guardate se io mi difendo vabbè io intanto qua gli butto una cimitero vediamo se i miei scheletrini riescono a concludere qualcosa c'è 24 di hp ok perchè già stavano partendo le bestemmie no scherzo il live non si bestembia no raga allora l'unica cosa non dovete fare entrare sto gigante royal perchè sennò sono ok 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 ci hai preso la madoraga 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 addio addio no 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 addio ho detto tipo ci ho creduto ho detto vabbè dai per un secondo cosa vuoi che sia putta ste frecce no non ho visto ciao just no raga non ho visto la torre ho detto vabbè non me la sta prendendo fortunato no invece me l'ha presa questo grande bastardo madoraga me l'ha presa la torre ho detto vabbè non me la prendo ho detto vabbè mettendo il gigante non me la prende mai che invece me l'ha presa allora vediamo qua che posso fare intanto facciamo così vediamo allora 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 mettiamo intanto qua poi dietro un bombarolo qua mettiamo il moschettiere perché tanto me lo uccide il gigante ok andiamo di cimitero cimitero no raga no 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 minchia però dimmelo che è prima dio che casino allora allora andiamo così e andiamo così ok bene ma non benissimo grazie mille mega gigi per il complimento grazie grazie però vorrei vorrei vederti io se tu hai tutti questi iscritti come ce li ho io allora vediamo come possiamo rimontare questa partita che mi sembra abbastanza persa mi sembra più persa che altro allora sinceramente a me non mi va di mi fanno girare un sacco le scape questi qua quanto richiediamo il gigante mi sembra vorrei fare questo anche qua ma devo arrivare a livello 8 manca pochissimo beh sto facendo sto facendo il baule della corona anche qua sto facendo il baule della corona comunque si si facciamo 2v2 qua va bene ok entra in questo profilo mio c'è entri sto profilo mio sbagliato scusa entra te la mando da qua la richiesta la faccia da qua questo già va di leggendoria no mi chiamo come ne buttate le frecce ti dovresti vergognare ciao alle giampi bella grazie per essere nel live giampi allora Allora, allora, allora. Dai, dai, vai di mongolfiera, dai. Se no qua non ci sbrighiamo più. Finiamo domani a quest'ora. Vai, vai di qua, vai di qua. Andiamo di frecce. Boom. Almeno una torre l'abbiamo fatta. E qua se non ci difendiamo ce ne fanno tre. Che sa che sarebbe bello qua con il gran cavaliere. Boom e butti lì a giù tutto. Ok, raga. Ci hanno fatto la torre, ufficialmente. Non c'è niente da salvare. Vai, just. Faccio con te. Ah, ma qua non la posso fare, forse. Dovrei connetterlo. No, mi chiede. Ah, ok, me l'hai mandato a tu, perfetto. No, aspetta, qual è quella? Mi chiedevo le rimu... No. Michievole. No uno contro uno. Io voglio fare due vi due. Ok. Vai, just. Ciao, Paolo. Allora, allora, allora. Vediamo che fanno. Ok, perfetto. Minchia, il rozzo. Ok, Paolo, fa entrare i tuoi amici, i miei fan, tranquillo. Puoi entrare chiunque. Ciao, Giorgio. Grazie, benvenuto in live. Ciao, Giorgio. Bella, Giorgio. Grazie, Giorgio, di esserti iscritto. Spargi voce con i tuoi amici, mi raccomando. È un bel canale il mio. Ovviamente dovete essere voi a valutarlo. Ma è un bel canale perché comunque faccio quasi... No, quasi. Faccio le live ogni giorno. Quindi è un bel canale. Iscrivetevi, spargete voce. Anche tu, Giorgio. Giorgio, spargi voce con i tuoi amici. Tranquillamente. Che è un bel canale. Cosa non puoi, Paolo? Ah, non possono entrare. Vabbè, niente. Sarà per domani. Io tanto le faccio ogni giorno le live. Tranquillo. Io ogni giorno le faccio. Tu vai tranquillo. Mi raccomando, mettete un pollicione in su. E condividete la live. No, mi hanno rotto le palle sti qua. Sinceramente, raga. G per noi. Ok. G per noi, raga. Ok. Vai con un'altra. Tube. Ok. Vabbè, vediamo se è tube. Già, si stiglia lavando. Ok. Ah, va bene. Ok. Allora faccio 2v2 normali. Ok, ok. Ok. No, raga. Ne fa tempo mangio. Non ti faccio la live perché... Giuro, non riesco a stare senza mangiare. Poi specialmente è che se il mio cervello mi abbandona, la dovrei fare ancora per un'altra ora e mezza, due. non ci faccio la mia... Non ci faccio la carta noi. Ok. Non ci faccio la faccio. Ok. Sì, non è vero. Uh raga Quanti siamo in live Bella a tutti ragazzi Non potete capire raga Scusate se parlo così ma sto mangiando Perché io altre due ore in live Così senza mangiare non riesco a starci Eravamo tipo Uno in live Una persona sola Adesso siamo 5 in live Ok bella a tutti ragazzi Ciao rosario Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in live Tipo mi mangiate raga Bavola è magico Bavola è magico Niente Ma è una gioia Cos'è che ho trovato? Ah Lo spiritello del chia Spera raga Ma sapete che forse io Se riesco a salire Vi posso accontentare Mi manca poco per salire Così raga Vi faccio sta sfida Qua Questa raga Se io riesco a salire A livello 8 Vi faccio questa Così subito Tac in live Proprio senza perdere tempo Raga Ma quanto sarebbe bello Mettere due giganti Dai E se mi gira il mazzo Mettiamo due giganti royal Due giganti normali Vai 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 Vabbè la mongolfiera 2 Dove poi ti arrivi Vai con la veleno Vai 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 Metti la veleno Vai 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 T'ho repressa raga T'ho repressa Sì sì Sicuro T'ho repressa Allora controllo Come siamo messi Con i like Dunque Dimmi una cosa Just Un'altra live Ce la facciamo stasera Una bella live Di ciccia Che me l'ho attenta No scherzo Magari Fossi ciccia Che è un'ottantanove Ma che fa Un'altra live Ce la facciamo Che è un'ottantanove 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 Dai Dei scheletrini Dei scheletrini Ok Aiuto Aiuto Spera che Vado a vedere come siamo messi Spera che Ok 5 like Si si vai cattivi Vai 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 Qua c'è penso io Minchia l'ha zappato Allora Raga considerate che voglio fare il baule della corona Perché se riesco a salire di livello 8 Noi ci andiamo a fare la sfida quella che è uscita anche qua Che già ieri l'ho fatta nel mio account Dai che sfiga vero dai Cioè questa si chiama vero sfiga Uh che bello Ragà bella giocata Ragà una bellissima giocata la nostra Mia è di A poca Non so come Si legga Ecco io lo sapevo No Non lo dovevi fare Adesso ci puniranno Vai di golem vai così ti voglio cattivo Ti voglio cattivo Ti voglio cattivo Vai ti voglio cattivo Ti voglio cattivo Cattivo come non mai Dai dai così vai così Boom Dai esplodi tutto Esplodi tutto Esplodi tutto Esplodi esplodi tutto Sbam 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 Vai esplodi tutto vai Che qua ci Che qua sennò ci facciamo infinocchiare come si suol dire Dai 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 Un colpo Ora zappano Dai che stronzi Ora zappano No Ora mi devi spiegare perché le fa No Ecco perché Ecco perché L'abbiamo perso Se non metti qualcosa Entro due secondi Entro un secondo Entro non so quanto Metti la torre infernale No Metti la torre Si può essere più stupidi così raga Ci siamo fatti proprio infinocchiare Vabbè dai Manca una corona Facciamo così Vai Metti gli scheletrini Non li hai Eh ma non dopo mezz'ora Quando tramonta il sole Ok vai così Vai che bello Non ho fatto un liscio pazzesco Già ste lo sai Faccio fino alle Fino alle Sette e mezza Otto Così lo sai già Te l'ho detto Te l'avevo detto L'altra volta Faccio fino Alle Eh l'altra volta Ieri Dai pure io ieri Oggi te l'ho detto Fino alle sette e mezza Otto faccio Ci sono problemi per te Tu mi avevi detto che potevi Quindi non Ah nella sfida progressiva Ed è proprio quello che sto cercando di fare anche io Dovrei farla anche io in questo profilo Comunque tranqui tranqui Puoi giocare alla sfida se vuoi Ti vengo a vedere Adesso passo Sì sì ma già se tu nel frattempo comincia Io qua voglio vedere Com'è la situazione Se non mi si blocca E non mi si blocca G per noi raga abbiamo vinto Ok Sì sì tu nel frattempo vai Io ora ti raggiungo Vai pure io nel frattempo Ora apro un po' il baule Vediamo se riesco a farmi i soldi Due gemme Golem 17 barbari C'è l'epica No nemmeno l'epica c'è Vediamo se riesco a farlo Dai dimmi che riesco Ce n'è ancora Perché tanto come opzione Non è abbastanza E' quello di ciccio dovrebbe essere Se non sbaglio Infatti Allora non è questo Questo qua Questo è quello di jogger Se non sbaglio Ok Vediamo qua come siamo messi Qua raga Bello Il baule magico Oh raga ma Vediamo se riusciamo a farlo Il baule magico Vediamo dai Vediamo Siamo a 220 Vediamo se riusciamo A farlo Il baule magico Vediamo Vediamo Tanto questo baule è gratis Della supercell Buono raga Noi andiamo a completare Vediamo se riusciamo A vincere questo baule Che manca poco Allora Vediamo gli obiettivi Quali sono Vinci 5 battaglie 2v2 Gioca carte In realtà Comune 60 volte Normali 1v2 Andiamo con 2v2 Che tanto è facile Dobbiamo vincere 5 Andiamo così Vediamo Questo è che riusciamo Ad aprirci Il baule magico Il Live Non ve lo do per sicuro Non so se riesco a finirlo Subito Però Ci possiamo provare A fare le missioni Ci possiamo provare Allora Vediamo che succede Facciamo così Vai 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 Bravo L'hai capito Ragazzi Immaginate Fare torre così Oh che ci pensi tu A difendere No Scherzavo Che ci pensi tu Ma come Il tuo compagno Abbandonato lo scontro Ragazzi Che cosa vedo Che cosa succede Cioè Stiamo vincendo E abbandonare lo scontro Dai ti prego Rientra Rientra in battaglia Che abbiamo vinto Cioè Ragazzi Se riesco a vincere io solo È davvero un miracolo No No raga Non ce la posso fare mai A vincere solo E lì Non va Non va Non va Non va Non va Non va Se non mi aiuta lui Non entra il mio Compagno Io non posso fare niente Sì Ma io così domani Le finisco le sfide Se non la vinco Io domani La finisco La sfida Dai raga Abbandonato lo scontro Voglio aprire il baule Insieme a voi Questo Per questo Just Voglio aprire il baule Magico Il live Per questo In cui vabbè dai Seguiamo i consigli Del mio moderatore Fino alle 7 Allora Se riusciamo ad aprirlo Il baule Lo facciamo ora Se no facciamo prossima live Che cosa sarà mai? Grazie a tutti Da, ahi. Che tu diventerò. Ma, cellulare. Dimmi. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Ma, porca miseria, ho sbagliato. Minchia, raga, non la può vincere così, vi giuro. Minchia, ho sbagliato a mettere la carta. Quanta. Quanta, cinquanta, cinquanta, cinquanta. Quanta, cinquanta. Quanta. Quanta, cinquanta. Quanta, cinquanta. Quanta, cinquanta, cinquanta. Quanta, cinquanta. Che c'è orario? Torniamo al profilo originale. Qua c'è il super magico. Ok raga. Stacco la live. Anche perché ho il cellulare scarico. Quindi. Andiamo a vedere quanti like avete messo. Ok 6 like e 1 dislike. Ok raga. Spero che la live di oggi vi sia piaciuta. Mi raccomando lasciate un pollicione in su. Commentate, condividete, iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima dal vostro Tube Master. Ciao ciao ragazzi.